Io ve lo dico, ve lo anticipo, ieri sera ho parlato con Paolo Pamini mentre era in viaggio verso Berna perché oggi c'è la catechesi dei primini eletti al Consiglio Nazionale e abbiamo fatto una intervista su Milei e sul liberismo che credo sarà veramente scoppiettante. Sono un po' raffreddato oggi, un po' mezzo influenzato, quindi spero di riuscire a scriverla già oggi e farò di tutto per farlo, però attenzione perché arriva questa intervista, come diciamo noi, bombastica a Paolo Pamini. Oggi è venerdì 24 novembre e c'è con noi Sascha Dalcol. Buongiorno Sascha. Buongiorno, buona mattina. Ciao a tutti. Mettete il like sul video e iscrivetevi alla pagina, mi raccomando che ci dimentichiamo sempre di dirlo. Al canale. Partiamo da Grancia, l'apertura di tutti i giornali. Allora sì, il mortale di Grancia è accaduto il 12 febbraio 2021 in cui perse la vita una diciassettenne e un sedicenne riportò gravi ferite. Una corsa nel parcheggio del centro commerciale di Grancia, una corsa durante il lockdown, una vicenda raccapricciante perché fu veramente gravissimo l'esito di quella corsa. L'autore, il ragazzo che guidava, è stato condannato a tre anni e tre mesi da scontare ieri. Il giudice Pagnamente ha detto che l'ha fatto soprattutto per appagare il suo ego, una vicenda veramente drammatica che fece accapponare la pelle a tutti. Sascha, le vicende difficili da raccontare per noi. Sì, sono fatti difficili da raccontare anche perché ovviamente si parla di giovani oltretutto in questa faccenda e sicuramente non sono degli episodi edificanti e soprattutto sono episodi che hanno anche un epilogo come la condanna che fa le prime pagine dei giornali oggi. Ma oggi è venerdì, lo abbiamo detto in apertura, ma non è un venerdì qualsiasi perché oggi è il Black Friday e basta sfogliare i giornali per accorgersene Marco. Sì, basta aprire, in realtà basta prendere in mano la regione e ci rende conto che gli hanno messo il burca, visto che parliamo poi anche di quello. La regione con il burca, la copertina è il Black Friday del giornale. Ed è un, in realtà il Black Friday che cade oggi perché è venerdì, è già cominciato ieri perché già ieri è cominciato il Friday, il giorno insomma dello shopping libero con mega sconti promessi fino al 30%. Già ieri alla mano per esempio sono andato a fare la spesa ed era già in vigore, quindi sono due giorni in realtà, non è più uno solo, quindi c'è questo shopping compulsivo che ci prende tutti perché approfittiamo di questi sconti del 10, del 15, del 30%, poi sta a vedere quali sono i pressi di partenza, come sempre quando ci sono i saldi, no? Sascha che desici, scusi, è andato a fare shopping, andai a fare shopping. No, allora ieri abbiamo avuto in un riunio di redazione una discussione sul Black Friday perché ci sono delle colleghe che vivono tutto ciò con una pressione psicologica non da poco. Io mi sono stupito perché in realtà mi accorgo che c'è il Black Friday perché ovviamente lo vediamo, lo sappiamo, però sono totalmente incapace di seguire promozioni, azioni e quant'altro e quindi di solito, a parte che poi quando ci sono più che il Black Friday di solito finiscono i saldi e quando finiscono i saldi, specialmente per l'abbigliamento, di solito ciò che mi piace fa parte di tutta la merce non in saldo, quindi non riesco mai ad approfittarne fino in fondo. Quello che è bizzarro è che noi commentiamo questa tendenza del Black Friday con un po' di ritardo perché alla fine leggevo che negli Stati Uniti questo venerdinero è nato negli anni Sessanta, no? Per cui noi abbiamo un pochino di ritardo su questa tendenza che ovviamente viene cavalcata dal commercio per cercare di fare affari in un periodo importante come quello pre-natalizio. La mia sensazione è che sia un po' in calo. Beh, c'è stato il boom iniziale e poi è in calo, cioè in calo dipende in che senso, in calo nel negativo... Cioè è meno sentito degli anni scorsi. Ma secondo me in realtà è molto sentito solo che scorre molto online questa volta, perché per esempio io ho riuscito a una vagonata di newsletter che chiamavano il Black Friday di commerci online e effettivamente lì ci sono delle promozioni molto allettanti e ci sono anche nei negozi fisici, però secondo me questa concorrenza dell'online sul negozio fisico si vede molto con questa operazione di Black Friday. Comunque ieri... Volevi dire? No, ieri posteggio della mano a stracolmo, quindi anche il negozio fisico regge ancora. Vabbè, ho detto una cazzata insomma. No, no, è giusto. La NZZ oggi intervista uno psicologo dei consumi, un guru che ha rivoluzionato, scrive il giornale, il modo in cui le aziende fanno pubblicità ai clienti e dice a proposito del Black Friday, oggi dimostro attraverso i consumi che sono una brava persona, anche se dietro la mia facciata, quello che mostro, sono ancora uno stronzo egoista. Titolo forte, ma il senso è, con quello che acquistiamo vogliamo anche, insomma, darci un'immagine, no, Sascha? Sì, dopo sai, attorno a tutti questi fenomeni partono le varie letture. Adesso, tra l'altro, mi interesserebbe capire se la parola originale è una follia della traduzione di Google o se veramente la NZZ ha messo... Io l'ho tradotto anche con Deepol, è usciva lo stesso. E quindi sì, è veramente stronzo egoista. Ma non lo so, sì, forse sì, forse siamo effettivamente tutti un po' degli stronzi egoisti. Penso che al di là del Black Friday possa essere un tratto anche della nostra epoca e della nostra società. Poi, sai, buf, credo che queste cose lasciano un po' il tempo che trovano, non so se non la vedete voi. È uscita la nuova classifica di bilanze, i 300 più ricchi della Svizzera, e la novità è che l'era Camprad, insomma gli eredi di Kea, è finita. Dopo 20 anni non sono più in testa alla classifica perché c'è il mister Chanel, come nuovo super ricco della Svizzera, che vive a Ginevra, non vi leggo il cognome perché appunto sono mezzo influenzato e faccio un po' fatica, comunque lo trovate ovunque, classifiche che fanno sempre discutere, Sascha. Sì, diciamo che è una tradizione di bilanze, no? Quello di uscire bilanze che tra l'altro c'è sia in francese sia in tedesco, la versione tedesca è quella che si vedeva, diciamo, in testa all'articolo. Diciamo che è un po' l'altro, lo provvescio della medaglia, no? Quindi da un lato le promozioni del Black Friday per poter consentire a tutti di risparmiare qualcosa in vista del Natale e dall'altra ci mettono nero su bianco la lista dei più ricchi della Svizzera. Esce proprio il giorno giusto. Il Chanel numero uno, eh? Significa che siano stronzi, egoisti e profumati. Esatto, il regno della moda è comproprietario della Chanel e si chiama Gérard Vertheimer, 72 anni, beato lui, 72 anni, più ricco della Svizzera. Insomma, i profumi costano e lo vediamo ogni volta che li compriamo, ma rendono anche evidentemente. Andiamo avanti. Breve parentesi sul Consiglio federale, perché, Sascha, sono cominciate le grandi manovre per la successione di Berset, cioè si entra proprio nel vivo della corsa, no? Sì, esatto, perché, appunto, oggi la frazione socialista decide se presentare un ticket a due o a tre. Sulla regione, infatti adesso la stavi richiamando, esatto, c'è anche l'infografica con tutte le tappe, al di là di quelle che sono le varie scadenze, era interessante, diciamo, una lettura su chi sarà promosso. E sulla regione si parla di Evi Alleman, perché le donne del PS hanno esistito affinché, anche stavolta, ci fosse una candidatura femminile. E poi parlano del peso dei giovani della Giso, e in questo caso citano Pult, che tra l'altro è un esponente che parla benissimo anche italiano. E quindi sarà interessante vedere come sarà questo ticket, se composto da due o tre persone, e soprattutto rimane l'incognita Iosic. Prima stavo sfogliando la NZZ e parlavano, facevano insomma qualche considerazione alla vigilia di questo ticket, dove dicevano che qui è tutto nelle mani del PS, nonostante Iosic, secondo la NZZ, sarebbe già eletto, perché molti cittadini considerano il consigliere degli stati di Zurigo e il candidato al Consiglio federale più capace, affidabile e politicamente pragmatico del Partito Socialista. E sottolinea il fatto che lo stesso Iosic ha detto che non accetterà, diciamo così, non correrà come candidato selvaggio, cioè nel caso in cui dovesse essere eletto, rifiuterà l'elezione. E questa insomma è una lettura che c'è sulla NZZ di oggi. Ricordiamo che poi c'è anche il grosso tema di Zurigo, che insomma non può rimanere continuamente escluso, non può rimanere fuori dal Consiglio federale, cioè non dovrebbe, visto che è comunque il motore del paese, anche Basilea, che ha un candidato in questa tornata per il PS, anche loro bramano da un sacco di tempo un consigliere federale, sono un altro cantone produttivo. Non so se dire restare a sinistra, ma sulla regione c'è una paginata con Amalia Mirante, Marco. Sì, Amalia Mirante che parla dello Stato sociale, anche perché voglio dire in questo momento in cui ci sono in vista tagli anche nel sociale da parte del governo, nell'ambito del preventivo, il tema è molto caldo. Allora, lei dice che esiste una grande differenza rispetto ad altri cantoni, tra il Ticino e gli altri cantoni svisteri, dove i cittadini riescono a vivere dignitosamente con il loro stipendio. In Ticino no, in Ticino cammina verso un'economia sussidiata dallo Stato. Politicamente dovremmo accettare questo fatto e trovare soluzioni. È un tema molto importante che riguarda tutti noi, perché sempre più gente finisce nell'ambito del sostegno sociale e sempre meno gente è tenuta a sostenere questo Stato, a finanziare questo Stato sociale tramite le proprie imposte. Questo è un problema che dovremmo affrontare, che la politica ticinese e anche federale dovrà affrontare. Una tesi molto forte, Sascha. Sì, tra l'altro nell'intervista lei espone anche dei dati, diciamo così, molto concreti, molto tangibili, interessanti. Per esempio la pressione dei salari da parte dei frontalieri. Lei dice che la paga dei frontalieri è in media del 20% più bassa rispetto, diciamo così, ai residenti. E questo esercita una pressione a ribasso sui salari che molti altri cantoni non hanno. E tra le altre cose di cui parla nell'articolo, c'è la famosa questione della franchigia, del tetto che potrebbe essere abbassato a 150 franchi. E lei si mostra scettica, no? Dice che significa infierire ulteriormente su un cantone già in emergenza sociale. Questa è un'altra questione che aveva fatto discutere settimana scorsa, mi sembra. Una franchigia per chi va a fare la spesa fuori cantone, fuori svizzera, insomma, in Italia. Sempre sulla regione, invece, Marco, una storia. Una storia, appunto, c'ennavo prima parlando del Burka, del Black Friday che ha vestito la regione di oggi. La regione dedica due pagine a questa vicenda con anche un'analisi da parte della polizia, del funzionario di polizia che si occupa del bullismo giovanile. E allora la storia è quella di una ragazza, oggi maggiorenne, che quando aveva 12 anni e andava in prima media è stata costretta insieme alla sorella a indossare il velo. Quindi un genitore, un padre, molto religioso, in maniera radicale, dice lei, ha deciso per me e per mia sorella che avevamo dovuto obbligatoriamente portarlo. E tutti ridevano, io restavo pietrificata e mi dicevano ecco la figlia del terrorista, ecco, e oppure quando salivo sull'autobus dicevano adesso esplode una bomba perché lì sotto nasconde una bomba, insomma. Ecco, c'è una brutta storia di imposizione da parte di un padre, rispettiamo la fede di tutti, ma non si può costringere una dodicenne a vivere in un ambiente come il nostro e andare a scuola con il velo. Che ne pensi, Sascha? Penso che è una storia molto triste, nel senso che lei, questa ragazza, aveva due problemi. Uno, quello in casa, il rapporto col padre che la obbligava a indossare il velo, e l'altro del bullismo, insomma, vissuto sulla sua pelle con i suoi compagni e compagni di scuola. È chiaro che di fronte a storie del genere è poi necessario trovare delle risposte. Credo che le nostre autorità di fronte a episodi del genere siano attrezzate e si stiano anche attrezzando per migliorare quello che offrono. Infatti poi c'è un'intervista, si parla con il gruppo minori della polizia cantonale che è nato nel 2019 proprio con lo scopo di occuparsi di questo. Secondo me è molto importante far conoscere che esistono dei servizi di appoggio e di aiuto nel nostro cantone. Questo sia per quanto riguarda l'episodio citato, sia anche tutto il capitolo della violenza domestica che è stato affrontato sempre nei giorni scorsi. È la storia di una morsa, in fondo, tra due prepotenze, quella di un genitore e quella dei compagni di classe, dei coetanei. Sempre a margine del caso Cecchettin su D'Ago Spia. D'Ago Spia riprende un'intervista a Anna Maria Bernardini De Pace, avvocatessa, divorzista famosissima, un'intervista di Libero che dice ma quale patriarcato? Io vedo molto, molto più matriarcato. Le vere vittime sono gli uomini. Il 76% di ricorsi di separazione partono dalle donne. Sascha. Ecco, su questo tema che è esploso in Italia devo dire che sono un po' disgustato dalla modalità con cui se ne discute e anche dalla quantità di tempo e di pagine che secondo me in parte sono anche sprecate. Nel senso che si è creato, come oggi su qualsiasi tema, parli di vaccini, di Medio Oriente, di Ucraina. Si è creata questa specie di spaccatura e adesso siamo arrivati allo schema uomini e donne che trovo assolutamente disgustoso di fronte a una persona morta, di fronte a quello che è accaduto, una persona morta, perché purtroppo i dati mostrano che il problema del femminicidio è molto diffuso. Quindi, queste uscite che hanno un po' del vero, perché quello che dice Bernardino Di Pace è sicuramente supportato da dei dati, mi chiedo che cosa porta al dibattito in questo momento. Adesso potrei citarti quello che ha scritto Cazzullo stamattina sul Corriere della Sera che dice l'esatto opposto, anzi, che torna alla carica e dice che sì, la responsabilità penale è ovviamente personale, ma tutti si devono fare carico di questa emergenza e soprattutto, dice, gli uomini devono fare la loro parte anche se non sono colpevoli e si continua con questo rimpallarsi di responsabilità come se la cosa potesse in qualche modo risolvere il problema. Però, Sasha, se questi grandi giornalisti, questi grandi, adesso non la Bernardino Di Pace, ma insomma, questi grandi anche pensatori, filosofi, eccetera, stanno dibattendo di questo tema ma hai ragione un po' come una tifoseria, come due tifoserie, però dibattono in questo tema, forse c'è bisogno di farlo questo dibattito. Sì, sai, dopo bisogna vedere quanto va avanti questo dibattito e dove arriva. Secondo me, più che le parole occorrono i fatti. Prima facevo riferimento a quanto succede da noi, al gruppo della Polizia Cantonale per i minori, alla questione della, diciamo così, della violenza domestica. Ecco, credo che di fronte a fatti del genere, più che le parole occorrono fatte. Cioè, dobbiamo cercare di ridurre questi episodi lavorando su più fronti, dibattendone, ok, che sia un problema, lo riconosciamo tutti, ma alla fine questo rimpallarsi e questo litigio perenne in tutti i tour televisivi su questo caso, dove ci porta? Beh, quando c'è un delitto di questo tipo è chiaro che l'attenzione ai miei italiani, mi ricordo che quando ci fu in Puglia c'erano, restavano delle, i camion delle televisioni ogni giorno facevano la diretta, cioè, qui c'è sangue e c'è anche un tema sociale come il femminicidio, il rapporto tra uomini e donne violento. Tra l'altro voglio sottolineare una cosa al di là della, Bertrandini del Pace al di là della famiglia patriarcale e femminicidio una cosa che dice lei è che le signore tradiscono molto più dei maschi solo che non si fanno scoprire perché noi o i mariti in genere abbiamo la sindrome di Pollicino e lasciamo traccia ovunque. Insomma, ecco, dal suo osservatorio è interessante al di là del caso di Giulia evidentemente. Sì, però... Ah, scusa, Flascia, prego. No, volevo dilungarmi troppo ma anche su questo aspetto. Cioè, cosa c'entra? Il fatto che uno tradisca o no? Non è che perché uno tradisce poi arriva diciamo così non dovrebbe arrivare al gesto estremo di dover ammazzare il partner, insomma. Cia, cia. Quindi, sì, è un'annotazione di costume e società, va bene, quindi... Niente, era così, la sua opinione. No, no, era per dire non nei tuoi confronti ma in generale del dibattito mi sembra che sia un aspetto, una nota a margine. Vai con Balotelli. E che succede con Balotelli? È ancora un casino combinato. Mario Balotelli è finito fuori in strada l'altra sera con la sua auto intorno alle 20.30, 23 novembre a Brescia ha perso il controllo dell'automobile su cui viaggiava finendo per schiantarsi. Vettura distrutta, c'erano anche le foto ma il calciatore ne è uscito il leso. Stando a quando si apprende avrebbe rifiutato di sottoporsi all'alcol test e per questo motivo gli sarebbe di essere stata sequestrata la patente, insomma, no? Ecco, un'altra ballotellata. Sascha, stasera c'è Radar, chi c'è? Stasera c'è Radar, ci sarà la collega Claudia Rossi e ci sarà un volto che avete ospitato anche voi, Pier Rusconi. Bene, io direi che per oggi abbiamo concluso, se siete arrivati fino a qui ascrivetevi al canale YouTube di Liberati voi mettete like, se vi è piaciuto grazie mille al direttore di TNTC in Radio 3 Sascha D'Alcol. Grazie a voi e buonanotte. E noi Marco ci vediamo lunedì perché arriva il weekend finalmente. Esatto, oggi tutti a comprare il Black Friday, mi raccomando. Buon weekend a tutti. Ciao, ciao, ciao.